Salvatore buonasera, ciao Luigi. Allora oggi iniziamo con un famoso detto di Gesù che diceva non date perle in bocca ai porci altrimenti vi si rivoltano contro di voi e vi sbranano pure e invece come si dice qui da noi a Marsala non serve lavare il culo al porco perché poi ritornerà di nuovo nel fango. Cosa ci dice a tal proposito Salvatore? Le due frasi parlano chiaro in quanto Gesù sapeva benissimo che era arrivato su questa terra, su questo pianeta e ha trovato un'umanità dura di servizio, un'umanità che era come evoluzione erano tutti pecorai la maggior parte, c'erano pochi artigiani bravi dovuti ad informazione di anni e anni di evoluzione, ma la maggior parte era tutto ignorante, non c'erano scuole, non c'erano niente. Coloro che erano risuiti erano quelli del Tempio, del Sinedrio, quelli che erano ricchi, quelli che avevano le informazioni e i commentari occulti e tutte le altre conoscenze mistiche che non distribuivano ai poveri, li tenevano per loro stessi per poter predominare sulla povera gente, tenerli schiavi e farseli a servire. Questa era una cosa molto brutta, ma Gesù dal canto suo quando disse queste parole aveva proprio ragione, perché vedi a volte la gente, o ricco povera che sia, non è detto perché uno è suito, non sia ignorante. Cioè uno è suito per quello che legge, riceve quelle informazioni, li memorizza e poi li distribuisce, chiamiamolo così, come potere sugli altri. Infatti coloro che avevano certe informazioni divenivano personaggi potenti, famosi. Ai nostri giorni ci sono i notari, ci sono gli avvocati, ci sono i giudici, ci sono quelli che gestiscono e determinano qualcosa sulla gente. Cioè, ma nel contempo quando si dava un'informazione a livello psico-spirituale, psico-animico-spirituale, quella gente non poteva comprenderla. E quando una persona sia istruita, diciamo che è ignorante, non capisce, si ribella e si rivolta contro. C'è questo, noi facciamo peggio degli animali, perché gli animali attaccano quando hanno paura. Neanche il serpente ti farebbe del male se tu non avesse paura. Neanche il leone lo farebbe. Se tu non avessi una frequenza di paura che dà al leone la possibilità di attaccarsi perché ha paura pure lui. E la paura che mette, diciamo così, in condizione di certe situazioni per far del male. Ora il discorso nostro marsalese, diciamo così, penso che sia qualcosa per tutta l'Italia. noi in Sicilia non diciamo queste parole. Un lavare il culo poico, perché poi se ne va a rinnofano. A che serve? E questo potrei dirlo a me. Come parlavo di Gesù, posso parlare di me, della mia vita. In 45 anni io ho lavato culo a certi porci che sono esseri umani, li ho curati, li ho guariti e poi si sono rivoltati contro di me. Mi hanno sbranato, mi hanno assassinato, mi hanno depredato. Capisce? Perché ciò avviene? Perché non hanno un'anima dentro, non hanno Dio. Perché se l'avessero non potrebbero fare una cosa del genere. Io non credo che una cellula parte del nostro corpo, o cellule parte del nostro corpo, che sono positive, che sono in armonia con il nostro corpo psicofisico, possono dilanearsi tra di loro. Semmai, nel processo di autolisi, le cellule sane facugitano quelle malate. Questo sì. Ma per evitare un danno maggiore. C'è un equilibrio totale. E' come gli animali, per poter vivere, depredano e sono predatori. Ma quella è la natura che le ha creati in quel modo. Ma gli animali sono predatori perché altrimenti muoiono se non mangiano. Devono portare il mangiare proprio piccoli. Però nel loro predare, diciamo, mantengono l'equilibrio nell'ecosistema. Di un ecosistema che la natura vuole che sia così. Invece noi uccidiamo e prediamo per il gusto di uccidere e predare. Questa è la cosa più brutta. E rompiamo pure tutti gli equilibri, come ad esempio i pipestrelli che ci raccontavi tu che tempo fa... Tutte le specie che sono andate in estinzione. Sì, più che altro, vedi, c'era un equilibrio talmente grande fra... noi li chiamavamo tazzarite. Erano piccoli pipestrelli che durante il calare del sole, appena pernottavano un poco, non essendoci luce, perché ai miei tempi non c'era luce per le strade, ma c'erano tante zanzare e tante altre specie, diciamo così, che facevano male a noi, che pungevano. Sia le rondine che i pipestrelli e a milioni di queste cose si mangiavano durante tutta la serata. Ci aiutavano ad evitare che noi mettessimo delle sporcizie addosso per mandarli via. Beh, io non ho visto più nessuna rondine da quando ero bambino. Prima ne vedevo folate. la prima rivera si manifestava con le rondine, ora non ci sono più rondine. L'uomo assassino e predatore ha distrutto pure un ciclo biologico, un ritmo di un... chiamiamolo così... Ecosistema? Di un sistema particolare di cui siamo coinvolti pure noi. Un equilibrio che c'era creato naturalmente. e questo è un male. Perché i pipestrelli, per esempio, non ci sono più qua, in mezzo a noi? Perché ci sono tante luci. Loro non vedono con la luce. Capisce? Neanche con i sonar. E non riescono più, impazziscono e quindi vanno via. E poco a poco si estinguono. Si estingueranno tutti. Io non so che fine hanno fatto le rondine. Io non vedo più rondine qua. Eppure io abito in campagna. Prima li vedevo da bambino. Anche in città. Dove c'erano alberi venivano rondine e facevano i nidi sopra i nostri tetti, diciamo così, le penzelline nostre. Ora non c'è più niente. Abbiamo depredato la natura. Ecco perché diceva Gesù non date pelle in bocca ai porci. E non lavate il culo ai porci. Quindi riguardo a me posso dire che in 45 anni, lo ripeto, di queste cose ci sono state. Loro venivano, io li aiutavo, non mi prendevo una lira da loro e poi ritornavano peggio di prima a mangiare cose. Quindi era come se io non avessi fatto niente. come se io l'avessi lavato il culo a porco. E di questo è stata una cosa tremenda. C'è pochi, sono, come diceva Gesù, molti chiamati e pochi li ha letti. Siamo chiusi dentro la struttura dell'ignoranza. Quindi l'ignoranza è diventata una struttura dentro cui noi siamo... Siamo prigionieri. Siamo prigionieri. Sì. E come poter destrutturare? No. Cambiando il programma della nostra vita, la nostra esistenza. Se tu non cambia il programma ritorna sempre dove sei. Proprio un ignorante difficile. Vedi, tu l'aseno non gli vuoi dare tutte le botte che vuoi ma ritorna sempre alla sua stalla. Perché non ha dove andare. Perché aseno? Capisci? E supera sempre le stesse botte del padrone. E questo è... Noi siamo come gli asani o come lappani quando io facevo la... Diciamo così... Parlavo che... Andavo a pesca e prendevo quei lappani. Erano tutte in fila. E gli altri lappani umani sono tutte in fila dai medici e nelle farmacie. Escono come se fossero dal supermercato. Non riescono a capire che hanno dato soldi e la loro vita. Si sono assassinate con le loro stesse mani. Cioè... Dando retta a degli esseri che io potrei definire idioti. Perché quando le persone vengono da me che sono proprio io idiota perché non ho nessuna istruzione e nessuna laurea riesco a fare le cose che loro non riescono a fare e le mandano da me e non ci riescono per niente. Vedi l'ultima... diciamo così... le ultime foto di Dana che era in cancrena con la gamba ora è perfetta. Ma queste sono piccolezze infatti ai casi di cancrena che io ho curato e che loro... la sanità e la medicina voleva togliere. perché loro tagliano. Una ragazzina di pochi anni gli ha detto se tu domani non vieni ad operarti di appendice non la togli e vai in peritonita e muore. la madre gli disse vai... al che lei gli... rispose la madre in questo modo tuo padre, cioè mio nonno e tu vi siete fatti curare da Salvatore Paladino perché mi volete portare dai medici per farmi assassinare? io voglio che mi cure Salvatore Paladino questa ragazzina adesso lavora a Lidl è diventata vegetariana e grande non ha tolto l'appendice perché gli è passata subito l'infiammazione perché era infiammata. ora io non riesco a capire per una semplice infiammazione da appendice si toglie, si taglia le adenoide per una infiammazione si tolgono le tonsille si tolgono ma questa è pazzia per le prove si terrorizza pure il corpo eterico che ha il terrore dei coltelli c'è un problema che anche se io lo dico mi prenderanno per scemo perché la gente non sa, non conosce come siamo strutturati e come siamo fatti il nostro corpo eterico il famoso corpo fantasma di cui la medicina è a conoscenza sia come braccio sia come piedi se tu prendi dell'acido muriatico una persona che non ha un braccio e ci fai mettere il braccio così senza che c'è e butti dove dovrebbe esserci il braccio delle gocce di acido muriatico quello ritira subito gridando di dolore perché? perché il campo strutturatore di forma questo corpo sottile che è un aggregato al corpo psichico che è in un'altra dimensione questo nostro doppio che è di materia chimica c'è non altro che dolere perché brucia capisci? ora la nostra psiche in base a questo ha paura di coltelle quando le persone vengono operate creano dei danni alla struttura psichica al campo strutturatore di forma anche se in quella dimensione c'è una riciclizzazione più veloce ma molto più veloce del corpo fisico ma è un danno psichico che rimane per tutta la vita e queste sono delle cose che non si dovrebbero fare quindi bisogna cercare in tutti i modi di evitare il taglio di mettersi sotto i ferri diciamo negli ospedali già deve essere l'ultima proprio l'ultima l'ultima spiaggia tagliarsi o farsi tagliare più che altro sì in un certo senso sì o altrimenti tu devi essere con un'informazione tale una conoscenza tale da poter diciamo poi sopperire al problema che ti sei creato ma io vorrei dire una cosa è un dolore nel cuore che io ho io da ragazzino non conoscevo ancora il processo di naturopatia o di medicina spirituale ma la mia anima era propensa ad aiutare i miei simili specialmente bambini di cui Gesù diceva lasciate che i piccoli vengono a me essendo nel seno io come Gesù quel dolore quella tristezza nei bambini che stavano male e allora quando qualcuno veniva da me per dirmi guarda mia figlia è cieca o mio figlio ha un tumore ai polmoni deve andare a Giustano del Tec o la bambina deve andare a Berna io andavo dal commissario di pubblica sicurezza gli dicevo che mi doveva dare l'autorizzazione per andare a chiedere le lamosine per questa persona e lui me l'accettava perché mi conosceva e aveva messo degli agenti dentro il centro studio di Fratellanza Cosmica credendo che io non le conoscesse io ovviamente il portalette le conoscevo tutte al di là di questo e raccoglievamo delle grosse somme perché io allora prendevo 72 mila lire al mese noi raccoglievamo o 500 mila lire o un milione o 250 dipende quello che le persone davano e noi attraverso diciamo così i canali li davamo alle famiglie che poi andavano a Giustano andavano in Svizzero e in altri posti per curare le loro congiunte ebbene la cosa più grave è che tutti coloro che sono andati anche la ragazzina cieca che è andata a Berna in Svizzera è stata operata cieca era e cieca è rimasta i medici si sono fottuti i soldi che io ho raccolto con le remozze a Giustano nel Texas è la stessa cosa il bambino con tumore ai polmoni il tumore aveva hanno tolto qualcosa ma il bambino poi è morto ci si sono fottuti i soldi delle raccolte non solo del centro studio ma di tutte le persone caritatevole che gli hanno dato soldi per poter arrivare a questi sciagalli che si prendono beh io voglio ripetere esattamente e dico nome e cognome me ne fotto un antico professore Grassellino che era primario di Marsala ed era imbanentato il fratello con una cugina di mia madre quando mia madre ebbe un appendice un appendicito acuta lui gli disse se non ti opere vai in peritonite mia madre gli disse professore mi opere lui gli ha detto sì ma ha fatto così con la mano dammi i primi soldi poi ti opero mio padre non avendo soldi ha dovuto andare a chiedere a parenti a congiunti e amici i soldi per poter fare operare mia madre gli ha tolto l'appendice quando poteva disinfiammarla come ho fatto io a lui è un grande chirurgo cioè loro operano qualsiasi cosa ti tolgono qualsiasi cosa qualsiasi organismo che la natura ti ha creato per il gusto di operare e per fottere i soldi perché la sanità a questi stronzi da un sacco di soldi per ogni operazione quindi i bambini ora non nascono più dall'utero nascono dallo stomaco perché tagliando lo stomaco e facendo uscire i bambini loro si fottono un casino di soldi per le operazioni questa è assurdità è schifo una persona come me deve essere superiore a queste grandi mente illuminate che le chiamano luminari del cazzo luminari della scienza ora io vorrei capire tutti questi medici c'è questi oculisti luminari che hanno tolto il mio bulbo oculare a 11 anni e io li ho curati tutti di qualsiasi cosa trompose come se catarratte glaucomi corne a terra ciechi per tutta la vita gli ho ridato la vista e ci sono persone ancora vive che possono parlare scusate io se faccio queste cose perché non riescono a farle loro prima le dichiarano che non c'è niente da fare quando sono guariti gli danno la dichiarazione e questa dichiarazione ce l'ho qua che non hanno più niente perché lo devo fare io perché devo operare io le persone non devo operare devo guarire io le persone come Serena Princi che Mandelli aveva assassinato massacrato e io gli ho dato la vita a 20 anni ora a 40 anni e a due bambini meravigliosi ma io non sono nessuno perché alla famiglia di Scordia di Lucia e di suo marito dopo che le hanno depredati di tutti i soldi per 6 anni gli hanno detto che non potevano avere bambine hanno una bambina meravigliosa che ha 7 anni ed è la gioia di tutti i parenti di tutti i compagni di scuola e delle maestre i miei figli sono nati in questo modo mia moglie ha avuto un aborto ha avuto un raschiamento e il medico gli ha detto che non poteva avere bambini per tutta la vita io ho due bambini meravigliosi e anche due nipotine sono nonno alla faccia di questi figli di puttana alla faccia di questi predatori di questi demone e questi sono che si chiamano medici e questa è medicina per far che? diamo i soldi per la medicina diamo i soldi per qualsiasi altra cosa o un medico condotto si prende per tutta la vita soldi miei e io non vado mai da lui e ogni anno si fotte i soldi miei dalla sanità e lui non mi conosce che significa questo? che significato ha? che ci hanno messo le catene che ci hanno messo il cappiacollo che ci hanno reso impotenti e noi ce lo gliel'abbiamo permesso e nessuno si ribella a me si ribello io dico la verità per com'è mi massacrano i signori medici una bambina di undici anni una certa valantina di San Leone per tre anni l'hanno seviziata per una fistula anale che gli curavano e diciamo così gli disinfettavano con l'anestesia totale e io in otto giorni senza anestesia gli ho infilato nella fistola degli unguenti con una garza e in otto giorni si è chiusi e hanno gridato al miracolo di queste cose ne potrei parlare dottoresse che sono venute da Palermo con l'uveite agli occhi se ne sono andate guarite e sono dottore dottore che mi mandano la moglie per la leucemia sono guarite ma loro danno chemio ai loro pazienti ma c'è pure gente che preferisce questo piuttosto che erratarsi i capelli e mettere la argilla in testa come si spiega? perché sono stupide sono ignorante ma nessuno può costringerli ognuno è libero di farsi c'è un detto marzellese che dice ognuno è libero di seppellire il suo padre con tutte le scarpe nessuno gli vieta di toglierle le vuoi mettere con le scarpe? mettere con le scarpe stronzo siamo ai livelli di un'esasperazione e di una suddita tale che arrivando ad un certo punto io non riesco più a capacitarmi bene quindi la cosa importante sarebbe risvegliarsi si iniziare a pensare con la propria testa non più come fanno gli altri lappoli come si chiama quel pesce che dice sempre? lappani non seguire sempre gli altri senza neanche sapere dove si sta andando ma provare ad avere una propria coscienza ma io su quarta dimensione su pensare con la propria testa come dicevi usare la propria testa si molte volte ho scritto svegliati dormiente svegliati cioè noi ci dobbiamo svegliare come dormiente altrimenti per noi è finita questo non lo facciamo non lo vogliamo fare ed è un problema nostro io posso dare informazione non posso consigliere le persone a fare quello che dico io ma io vi posso dire e se qualcuno vuole mettermi alla prova io sono disposto che in pochi mesi io vi svuoterei gli ospedali perché tutte le persone come Dana che si è curata dalla gangrena da sola a casa sua come Demetrio come Marino Pianobarre come Claudio Sala tanti altri che si sono curati e hanno raggiunto livelli grandissimi di grande malattie si sono curati da sola a casa senza spendere una lira e neanche pagando me vedi negli ospedali ci sono persone che non dovrebbero stare lì che a casa loro da loro stesse senza il mio intervento con le mie informazioni si potrebbero curare non lo fanno perché non lo fanno per semplice motivo che in realtà non lo so sono ignoranti io potrei svuotare gli ospedali mi dovrebbero dare soltanto la possibilità di poterlo fare io non ho niente non ho soldi non ho nessuna nessun attestato ah anzi mi hanno dato un attestato ad onore a me credo a Tex Wheeler quello ce l'ho ma come medicina io non conosco io non conosco come è fatto il corpo umano non conosco lo spelling come fanno i medici che conoscono tutte le particelle e poi non curano cioè non capisco conosceremo le parti diciamo del corpo umano e non sapere come curarlo come guarirlo dal momento che vengono a me è così eppure io non conosco nessuno non ho mai letto nessun trattato di medicina e non conosco la medicina e quindi il problema è grave beh una volta sai cosa si faceva quando la medicina massacrava le persone e con le lacrime agli occhi dopo essere stati depredati cercavano l'ultima tulle l'ultima spiaggia e andavano dai fattucchiere altri pezzi di merda più pezzi di merda dei medici che gli depredavano gli ultimi soldi che avevano io non sono un fattucchiere non sono uno scegone non sono un medico non sono un santo non sono un mago e non sono il Gesù Cristo io sono semplicemente un semplice cioclodita semi analfabeta di ignorante con la quinta elementare porta lettere di quarto grado eppure faccio cose che tutti i grandi luminari di tutte chiamiamolo così di tutta la medicina può essere quella degli occhi può essere quella del cuore può essere quella del rene può essere quella di qualsiasi organo o di qualsiasi malattia basta che riceve le mie informazioni e fa quello che deve fare sarà un fibroma sarà qualsiasi altra cosa fistole anali erpes simple che i medici chiamiamolo così della pelle dicono che non si cura e non possono più fare sesso per tutta la vita ragazzine queste cose io le curo loro no e di testimonianze ce ne sono salvatore grazie grazie anche per questo bellissimo dialogo